Cosa vi è venuto in mente? Perché Firenze e Singapore? Perché rifare questo viaggio a 60 anni di distanza? Mi sono laureato in questa scuola per le mie spalle con il mio compagno di viaggio Cesare e già più di un anno fa volevamo fare un viaggio indimenticabile, qualcosa di diverso. Abbiamo per l'appunto scoperto che oggi, 60 anni fa, un gruppo di sei studenti, sempre di università inglesi, che sono Oxford e Cambridge, partirono alla volta di Singapore, da Londra, e quello fu il vero Overland, uno dei viaggi via terra più famosi del mondo e ci siamo un po' legati a loro, ci siamo un po' ispirati a loro e oggi finalmente partiamo.